come gestire i test automatizzati ciao io sono Michele e oggi andiamo ad approfondire le metodologie di gestione dei test e in particolar modo di quelli automatizzati i test automatici rientrano nelle capability tecniche individuate dal Dora Core Model eccole qui le troviamo qui test automation per quanto mi riguarda ok questo non è un elenco ordinato ma io lo sposterei sicuramente in alto andiamo quindi a vedere cosa si intende per perché si vuole investire perché si deve investire in test automatici e quali sono gli errori più comuni per me una delle caratteristiche più importanti di un progetto software è che questo deve essere sostenibile lo scrivo qui sostenibile significa non un ambito green come va tanto di moda e quindi deve inquinare poco e così via è avere un basso impatto ambientale ma io intendo che il progetto in sé deve essere sostenibile sia dal punto di vista tecnico e tecnologico sia sostenibile come tempistiche di progetto dal punto di vista delle persone affinché un progetto dal mio punto di vista sia sostenibile deve essere un progetto in cui ci posso lavorare senza impassire nel lungo termine è un progetto che la sua code base in questo caso concentriamoci sulla code base sul tecnicismo perché poi potremmo fare una serie di considerazioni su come il progetto stesso è gestito ma rimaniamo più sul sul tecnico per essere gestibile sul lungo termine vuol dire che la mia code base le mie tecnologie la mia code base che io vado a creare a costruire a mantenere nel tempo deve essere facile il più facile possibile perché facile in senso assoluto non le ma non lo è mai il più facile possibile da continuare a modificare e sarò ancora più specifico perché modificare una code base in sé per sé è facile basta aprire modificare delle righe di codice e siamo a posto in realtà la code base in questo momento è modificata ma devo poterla modificare senza spaccarla e senza abbassarne la qualità e quindi senza introdurre regressioni o problemi per gli utenti finali per i clienti per proteggerci da questa problematica che tocco un software da una parte e si spacca in maniera imprevista da un'altra quindi per proteggersi da quelle che possono essere delle regressioni ovviamente involontarie non lo facciamo apposta abbiamo solo uno ed un solo strumento questo strumento sono i test e vado ad insistere che sono i test automatici perché è vero ci sono anche i test manuali cioè io modifico il mio programma poi il developer lo consegnano a un altro team o delegano i test manuali qualcun altro installano in maniera manuale automatizzata l'ultima versione quella appena prodotta da una qualche parte è un team di persone va a verificare segue una checklist o quello che è in maniera manuale ma nel mondo di oggi questa cosa non è più sostenibile non è sostenibile perché è un processo lento perché appunto manuale dipende dalle persone che non le stiamo impiegando in un modo in uno scopo creativo ma le stiamo impiegando per dei task ripetitivi dove il loro valore aggiunto è pochissimo invece le persone magari sono eccellenti in quelli che possono essere i test esplorativi ma che sono tutta un'altra categoria di test allora come mi devo comportare sul lungo termine come devo gestire il mio progetto software il mio progetto software per abbracciare questa mentalità il l'immagine che dobbiamo avere in mente è quella di una piramide la cosiddetta piramide del testing che possiamo suddividere in tre fasce dove abbiamo alla base la base che ci rappresenta la quantità più elevata di test che dobbiamo avere e sono generalmente quelli che indichiamo con gli unit test poi dobbiamo avere dovremmo avere un'altra quantità in calare che sono i cosiddetti generici test di integrazione e alla fine magari dobbiamo avere test end to end questa piramide è costruita in questa maniera per un semplice motivo nel senso che più i test sono di tipo unit quindi intendiamo quelli che girano senza dipendenze completamente in ram isolati da tutto il resto intendiamo per quelli di integrazione come definizione un po generica quelli che hanno bisogno di almeno un'altra parte del sistema deployato da qualche parte immaginiamo quindi un motore di database la nostra i nostri binari più il sistema di database infine gli end to end sono quelli che magari hanno bisogno di tutto il sistema deployato da qualche parte che testano anche proprio usando il sistema magari con browser automation e così via quindi alla base della nostra piramide di test dobbiamo avere gli unit in grandissima quantità appunto sono alla base perché sono i più economici da scrivere sono facili si scrivono immediatamente vicino al codice contestualmente mentre si scrive il codice di produzione e così via sono i più economici e sono quelli che ci danno il feedback più rapido perché girano direttamente nell'ambiente di sviluppo con 3000 plugin ormai disponibili sul mercato c'è di tutto che io posso nel momento in cui scrivo mi accorgo subito se i test stanno passando o meno nel momento in cui modifico poi abbiamo quelli di integrazione che cominciano ad essere un po più complessi da scrivere anche più costosi da mantenere devo avere un database per esempio devo essere sicuro che i dati in quel database siano quelli pertinenti e corretti per il test li devo mantenere nel tempo devo oscurare dei dati sensibili e così via lo stesso problema sempre ancora più amplificato andiamo sui test end to end dove ci sono le varianti dei browser tempi di caricamento e lo scripting per scriverli è sempre più complicato e così via quindi mano a mano che io mi alzo ne vado verso la punta della piramide i test sono più costosi sia da scrivere che da mantenere e generalmente generalmente anche ci mettono più tempo quindi questi sono molto lenti ok un magari un test end to end gira nell'ordine del secondo della manciata di secondi in un paio di secondi mentre abbiamo gli unit test che in termini di tempo possono tranquillamente girare sotto i 100 millisecondi e quindi ne abbiamo tantissimi girano velocissimi si possono sfruttare tecnologie tecniche di esecuzione parallela per cui effettivamente possiamo averne migliaia che girano nel giro di pochi minuti un'altra cosa che possiamo sempre tenere a mente quando andiamo a progettare andare ad approcciarci al test in maniera strutturata è questa matrice di brian maric che ci guida sulle tipologie di test in base alla tipologia di applicazione business facing magari tool interni programmazione di cose più interne di supporto technology facing quindi siamo in un ambito magari molto più tecnologico o critic project quando stiamo in scenari mission critical come possiamo vedere da qualunque punto di vista noi ci mettiamo che io sia in questo contesto o quest'altro lo stiamo leggendo da qui o da qui la parte automated è sempre presente detto questo io so già le obiezioni principali sul tema le sento arrivare dalla tua testa le sento i tuoi pensieri e mi stai parlando principalmente di tempo è ma scrivere i test costa tempo mi porta via devo scrivere il doppio del codice perché devo scrivere il codice di riproduzione e devo scrivere anche il test quindi mettiamolo tranquillamente qui codice due per per così via il tempo eccetera sì è assolutamente vero nel senso che ci vuole più tempo devo ovviamente scrivere più codice perché i test non si scrivono da soli in particolare in questo caso io mi sto riferendo alla parte bassa diciamo della della piramide dove dovremmo dovremmo andare ad avere ad arricchire una con arricchirci con gli unit test e quindi si sono obiezioni vere ma fino a un certo punto nel senso che giusto ci devo dedicare più tempo non si scrivono da soli no però questo è tutto un tempo che è un investimento nel medio lungo termine con devo dire anche notevoli soddisfazioni nel breve termine noi dobbiamo sempre pensare a quello che dicevamo all'inizio di questa chiacchierata cioè che il nostro progetto deve essere sostenibile nel lungo termine quindi io sono disposto a fare fatica all'inizio per costruirmi le mie abitudini le mie classi di test il mio i miei bagaglio tecnologico per avere i test automatizzati spendo un po all'inizio investo all'inizio perché poi nel lungo termine intanto mano a mano che la uso faccio pratica e miglioro ok e perché nel lungo termine mi renderanno sostenibile il progetto perché mi rimuove la paura quando io sono protetto dai test posso affrontare tutta una serie di attività in un certo modo che prima non posso ciao ciao paura perché se io sono protetto da un numero di test automatici posso per esempio fare un refactoring di una classe o di un modulo a un problema di prestazioni bene cambio l'algoritmo lo vedo ai morsetti ho sempre dei test automatici che mi verificano che gli dati certi input l'output è sempre lo stesso e se nel cambio di implementazione mi si rompe cambio mi perdo un comportamento ci saranno i test che mi dicono guarda che qui non funzionano più come prima ovviamente abbiamo tante tutte le tipologie di test che abbiamo visto prima sono da considerare tutte quante e tutte quante richiedono un certo investimento di tempo che verrà ha sicuramente sicuramente ripagato perché quanto costa una figuraccia con un cliente che gli consegniamo qualcosa che non si comporta più come prima magari una feature cui era particolarmente affezionato o creiamo un importante bug da qualche parte queste cose oltre che il costo del fix in sé che magari non è neanche così significativo perché magari da correggere sono una manciata di righe di codice la diagnosi potrebbe essere un po più lunga ma stiamo parlando magari di qualche manciata di ore però i termini di danni che io posso fare perché ho tirato giù un sistema mission critical o perché anche semplicemente di riporto di reputazione valgono tutti i soldi tempo speso in un corretto approccio al test automatizzato all'interno di tutta questa tematica c'è poi sì ci sono delle divisioni ci sono chi chi fa tdd cosiddetto tdd classico ci sono classic ci sono i mochist verso app versus appunto i classicisti tradizionalisti c'è chi fa behavior driven development c'è chi usa il gherkin insomma le modalità di testing sono tante parlarne in un video di una decina di minuti sarebbe impossibile anche perché poi bisogna capire il proprio contesto e il proprio livello di maturità e le tecnologie con cui sia a che fare bene michele con i test automatizzati mi hai convinto ma come posso iniziare dato che sono completamente a digiuno di questo argomento molto complesso e vasto beh il mio consiglio è quello di cominciare a partire scrivendo un test una cosa che ho implementato in vari contesti è quello di mettere nei team una regola nella definition of done cioè prima di considerare uno sviluppo completato di avere almeno un test automatico scritto tipicamente un test di unit questo anche solo agli inizi per un certo versi creerà dei terremoti perché per esempio a seconda della code base potrebbe essere una code base o un punto della code base che non è facilmente testabile e quindi va a scatenare delle logiche magari un po di reingenerizzazione devo cambiare qualcosa devo togliermi delle classiche statiche di me delle classi statiche di mezzo delle dipendenze direttamente in costruzione delle classi e così via quindi un consiglio molto potente estremamente facile da implementare è quello di cominciare ad implementarne almeno uno implementa un test automatico dopodiché un altro step potrebbe essere quello di fare dei placeholder in tutti i processi automatizzati quindi se fai continuous integration continuous deployment e così via cominciare a prevedere i punti dove i test automatizzati per ognuno per la propria categoria cominceranno ad essere eseguiti e l'obiettivo è quello di averne uno per ogni tipologia quindi uno unit un test integration in un punto che deve essere eseguito un test and to end e così via un po alla volta si va ad incrementare la test coverage il team all'inizio non si non sarà ingessato perché non si punta ad avere i test per tutto subito ma con costruire un piccolo test per volta il team comincerà a prendere confidenza inoltre un'altra cosa che potrebbe essere interessante è quella di quando arriva un bug arriva un bug da correggere un difetto si riproduce il comportamento tramite un test che sarà rosso e dopodiché si cambia l'implementazione il test diventa verde e a quel punto abbiamo fatto un piccolo passo in avanti nella nostra code coverage e test automatizzati bene per oggi con i test automatici ci fermiamo qui se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale e lascia un mi piace cosa sarai notificato e sulla prossima uscita ciao